secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie un prato unico io adesso non ti dico un po a parte che secondo me se gliela fai se la fai vedere ai ragazzi gli piace vedertela una volta che la fai nel senso ma quello sicuramente perché ce ne sono due c'è la reboot royale e c'è la atlas io ti invito entrambi hanno fatto la stessa cosa no entrambi hanno ricreato la mappa season 1 l'atlas secondo me è più carina anche se molti dicono la reboot royale secondo me no e quella roba lì che gli manchi quindi sto portando no no perché sto stiamo parlando ciao che gli manchi capito quindi ma la vera domanda è molto vero sei ancora stancata di questi quattro anni giocare dal controller così bobo stai tutto ria a tryardari e allora chiudimi sempre che cazzo ti devo dire ma parca traia ce non può solamente one bombarmi no non convene che ti alzi e lo vieni a cercare no non vai cercare adesso che non siamo ancora va bene allora sai quello che ti pare io non so cosa dirti ti ho aperto eri davanti ti ho sparato a destra ho richiuso va bene te l'ho detto che comunque ti avrei fatto vedere come si gioca adesso no 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 sì sono d'accordo guarda questo ma come cazzo ti posso messare il box ma che schifo andare lì no? pare conteso zia eh? sì ma questo non sei messo male ma che c'è se invece davvero? dai veri mortacci tu c'ho sotto il culo ma all'andato perfetto zi orco mondo siamo tutti morti ecco fatto ragazzi abbiamo rotto il culo eh via 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 subito 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 non pensate oh ciccio non sparare l'ho crackato l'ho crackato c'ho da andare in range raga morto non lo so che ho ucciso forse è sevege no non è sevege non è sevege l'hai finito? sì sì ho preso ma scappa 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 ma che vengono a fuggire? ma che vengono a fuggire? perché io per dar supporto a merda raga non riesco a prenderlo ma continuo a smirare raga ma che scena orribile ragazzi vi giuro vi giuro non riesco a mirare no no ma sono io che non avevo la concezione oh io io c'ho pezze otto mesi ciao bello grazie mille per gli otto ieri mio fratello ti ha chiesto di farmi gli auguri per il mio concetto mi sono subito per ringraziare ci mancherebbe tanti auguri tanti auguri pezze andiamo io sono messo godern ok mi sente? ok perfetto mi sente che ci vuole addosso? 21 ma che c'è? nessuno ha le troppe ma che è? la drop map è dove vanno le persone è tipo di zucchero? e se ho io c'ho il drop map? ti apposto? no è tipo di zucchero? no la drop map ma tutto c'è io ho saputo che bisognava essere un pro di chi è il pro qua in mezzo? alla pari venite ma come deve esserci un pro in mezzo? si deve essere lei è un pro? io sì beh io vengo pagato per giocare quindi va bene cioè nel senso non funziona ovviamente così non è questo dice il eh no chiuderò lei fa vieni mi sta subito ok arrivo oh cazzo eh sì merda F cosa faccio F? F ho finito il mad mist capito? Ciccio spara a che cazzo spariamo F? puoi fare dei danni F? per favore ciao eh no raga questo è un problema eh questo è un grande problema vabbè ma ragazzi questo è un grande 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 problema allora qui bisogna un attimino rivedere la situazione da una attenzione che quando vi dico là Santux 100 patatine Santux sottolineatura 96 buongiorno chiudero ho dimenticato di scrivere il messaggio sotto potresti fare gli auguri a mio fratello Pezzettino che oggi compire 21 anni ciao Pezzettino tanti auguri di buon compleanno bello tanti auguri ciao bello grazie delle 100 Santux grazie so sei no anzi non lo voglio neanche dire pubblicamente chi è me lo vado a vedere poi in privato testa di cazzo balla su sta cappella come quel cornuto di tuo padre che porco diazza avete messo il portone per farlo mangiare in cucina che non ci passava sto coglione testa di cazzo coglione vai vai bambino bravo bravo mi hai chillato però let's go ok easy tua madre succhia i cazzi tuo padre succhia i cazzi che la buttata di tua sorella mi ha succhiato il cazzo questo mi ha grabbato il porco no sono fuori c'è gente che non c'ha un'idea l'unica cosa buona di dover cambiare ogni partita al server è che mi danno trovi gli stunnati e quindi puoi fare cose allora però per favore guys stay chill per favore stay chill e vinciamo un'altra l'orso è qua davanti l'orso è qua ma parca traia parca traia nirchetti Oddio Uno poi non deve bestemmiare Ma perché Che Allora, devo dire che la tua soluzione intelligente non è stata male, lo sai? Non è la volta in generale L'ho distrutto, Qsiu Ottimo Morto Aiuto, Qsiu E che cazzo sei, ma A tua madre succhia veramente, parco Non faccio cagare È solo questo Mi mazzo, mi mazzo, mi mazzo Vado a ricercare le nuove splash Orca banana Andiamo Ciao, CR20 100 patatine CR20 Grazie per le 100 Ciao, bello Devo trovare altre splashine Io non so neanche dove andare Adesso diventa difficile perché non ho idea di dove spostarmi Adesso